Siamo notati Gesù e Maria. Allora ragazzi, amici carissimi, piccoli e grandi, oggi è la festa, la solennità anzi, della Santissima Trinità. Domenica dopo Pentecoste è quella che precede l'altra bellissima festa che vivremo domenica prossima, è quella del Corpus Domini. Quindi è una domenica importantissima che capita proprio perfetta, specie per i ragazzi del Catechismo ma anche per i grandi, per fare un po' di ripasso del Catechismo di fine anno. Con i miei ragazzi l'abbiamo già fatto, perché la Santissima Trinità è la cosa più importante. Che cosa diciamo noi quando comincia la Santa Messa? Nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. che sono tre persone uguali e distinte ma un solo Dio. Questo è il mistero fondamentale della nostra fede. Cioè il Signore Gesù ci ha rivelato che Dio è uno, non ci sono più dei come pensavano i pagani, ma che nella unicità e unità di Dio ci sono tre persone uguali e distinte. Che significa uguali e distinte? Allora, facciamo un po' di Catechismo? Rifacciamo un po' di Catechismo? Allora, la prima cosa più importante che si impara a Catechismo è chi è Dio? Innanzitutto, cosa significa l'essere Dio? Oh, essere perfettissimo. E poi? Oh, non ci sta Giuseppe Bianchi, però c'è Gabriele. Creatore e Signore del Cielo e della Terra. Quindi Dio, che è uno, cosa ne dica che essere perfettissimo? Che tutto quanto di più grande, di più santo, di più bello e di più buono, che noi possiamo concepire o immaginare, in Dio è presente. Tutte le perfezioni possibili, pensabili e immaginabili, ogni bellezza, ogni bontà, ogni verità. Che ha creato, vuol dire che tutto quello che noi vediamo, qualunque cosa noi vediamo, è stata da Dio, creata dal nulla, fatta con un atto della sua volontà. Non solo, non è solo creatore, ma è anche Signore. Io dico sempre a bambini del Catechismo che Signore in latino si dice Dominus. Sapete che da Dominus deriva anche il perché i sacerdoti vengono chiamati Don? Perché io vengo chiamato Don Leonardo, secondo voi? Perché Don, lo dico anche per i grandi, è la forma sincopata, quindi ristretta, di Dominus. Che significa Signore? E chi è il Signore? Il Signore è Dio, il Signore è anche il nostro Signore Gesù Cristo. Perché un sacerdote viene chiamato Don? Perché un sacerdote è un uomo, ma non è un uomo di tutti gli altri. È un uomo di Dio. E deve essere un uomo di Dio. Per questo che si chiama Don. Allora, in latino, perché conosci il latino Dominus, in italiano c'è una parola che noi comprendiamo. Dominatore viene da Dominus. Dominio viene da Dominus. Che significa che io ho il dominio di una cosa? O di quella cosa è mia, punto e basta. Comando io, non me la tocca nessuno. Quindi, tutto so che Dio ha creato è di Dio, è suo. E lui, in qualunque istante, può esercitare un dominio assoluto. Può fare tutto quello che vuole, su qualunque cosa che abbia creato. Ok? Questa, diciamo, è la sostanza di Dio. Poi ci sono i quattro attributi principali di Dio. Cioè, quelle cose che fanno di Dio, ciò che Lui è, è che noi non ci abbiamo. Quali sono i quattro attributi principali di Dio? Qui stiamo ancora parlando di Dio 1, poi vediamo le tre persone. Dio è? Vai, Gabriele, vediamo un po'. Che qua Giuseppe ha incestato la bandiera di portatù, eh. Ogni potente, immenso, eterno. E' onnisciente. E' onnisciente. Bravo. Queste quattro cose, guardate che non sono nozionette, sono le cose che fanno di Dio, Dio. Perché qualcuno di voi forse è onnipotente? Se dice di sì, poi si alza e viene qua e dà la dimostrazione, eh. Perché se possono dire stupidaggini. Qualcuno è onnisciente? Cioè, sa tutto anche i pensieri delle persone? Se qualcuno vuole fare una prova, venga qui davanti e mi dica quello che sto a pensare. Sì, come no? Qualcuno è immenso? Se qualcuno è immenso, faccia una cosa. Nel giro di un istante si sposti da qui a New York, adesso. Istantaneamente, eh. Con un atto di volontà. E se qualcuno è eterno, ah, si sposti davanti di centomila anni o si sposti indietro di altri due milioni, tre milioni di anni, senza nessun tipo di differenza. E' importante sapere queste cose, migliori e migliori. Non pensate che queste siano nozionette da imparare a memoria. Questi devono imparare, inserire, insegnare a famiglia del Cattivismo. Dobbiamo ricordarli anche da grandi. Perché noi, quando siamo qui, siamo alla presenza di Dio. Questa è la casa di Dio. Tutto quanto il rispetto, l'onore che si deve. Perché Dio certamente ci ama e ci vuole bene. Ma voi capite dinanzi a chi stiamo? Dio è eterno. Cioè è sempre stato e sempre sarà la liberazione che diede di Dio a Mosè. Io sono colui che sono. Ma capite che significa questo qui? Capite, eh? Per questo che si chiama il Padre Eterno, nel linguaggio comune. O che Dio è onnisciente. Sa tutto. Anche un minimo nostro pensiero. E lo sa di tutti gli esseri che sono stati, sono e saranno. Capite? Dio se volesse fare un gioco di prestigio, ma non le fa queste cose qui. Potrebbe darmi adesso una letterina in bianco e dirmi. Immacolata, tra un'ora, starà facendo, alle 12 e 20 e 30 secondi, starà esattamente facendo quella cosa. Mi la mette in tasca e ti guarda qua e mi ricorda che c'è scritto. E poi a mezzogiorno e 40 glielo leggo. Sto giochetto lo potrebbe fare con chiunque. Non lo fa. Perché Dio non fa sfoggi inutili. Ma è così però lui. Che è onnipotente. Vuol dire che Dio può fare qualunque cosa. tranne il male. E il male non è che non lo fa perché non può. Il male non lo fa perché non è scemo. Perché il nostro Signore non è scemo. Perché fare il male è quanto di più idiota ci possa essere in tutto l'universo. Perché fare un male, fare un peccato, è più grave che se uno prendesse un martello e se lo desse in testa. Voi pensereste che una persona... Cioè, ah Dio è onnipotente quindi vuol dire che si dà le martellate in testa. Cioè, uno direbbe insomma se Dio fosse questo, insomma, Dio diventa ateo. Questo non è essere onnipotente, questo è essere fuori di testa. Fare il male è molto peggio che darsi le martellate in testa. Non è manifestazione di potenza, è manifestazione di cretineria fare il male. Essere malato. Brava. Di di mente. Sapesti quanti ce ne stanno in giro? Uh, guardi, ne vedo una caterva tutti i giorni. Di malati di mente sotto questo punto di vista. No, da manicomio. È meno grave essere malati da manicomio, capite? Perché un malato da manicomio lo compatisci. Un malato di questo genere un po' meno. Oh, e poi Dio è immenso. Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Ah, ora vi faccio una cosa che ho detto i giorni scorsi. O sapete quanto è grande l'universo? Ora vi ridico una cosa che ho detto in un'omelia dei giorni feriali dei giorni scorsi. Documentario, ho visto un mese fa. In 3D tra l'altro. Voi sapete che il nostro sistema solare, che è già grandicello, si trova in una galassia. Queste cose penso che ho studiato spesso, si chiama la Via Lattea. Oh, lo sai quanto è grande la Via Lattea? Eh, allora, hanno fatto uno studio. Se io mi voglio spostare da un capo all'altro della Via Lattea, con un'astronave che viaggia alla velocità della luce, non la costruiranno mai. Sapete a quanto viaggia la luce? 300.000 km al secondo. 300.000 vuol dire che in un secondo si fa 40.000 km, sono la circonferenza della Terra. Fatevi un po' i conti. Oltre 6 volte il giro della Terra. 7 volte quasi il giro della Terra. 7 per 4, 28. Tu accendi una luce, conti fino a 1. Quella è la velocità della luce. Se un'astronave potesse viaggiare così, sapete quanto ci mette ad arrivare da un capo all'altro della Via Lattea? 100.000 anni. Lo sapevate? Ma sapete quante galassie ci sono in tutto l'universo? C'è chi, un tempo pensavano 500, 600, adesso i numeri stanno crescendo sempre di più e qualche intelligentone dice, non si contano. Ma vi rendete conto? Cosa significa che Dio sa quello che sto facendo io adesso? E sta a distanze che... Voi sapete che c'è qualcuno, qualche sciocco che crede negli UFO? Gli UFO o non esistono o sono diavoli. Non ci credete a queste gradinate qui. Ma Padre Pio, non vi scandalizzate, eh? Sapete cosa diceva? Lui era convinto che nell'universo non possiamo essere soli. Perché prendete conto quanto è grande l'universo? Se per percorrere la Via Lassia ci metto 100.000 anni alla velocità della luce e ce ne stanno... Tutto questo universo è stato fatto perché? Per facce stelle e pianeti? Meteore e buchi neri? È un interrogativo grande. Ma chiaramente con queste distanze, ecco perché gli UFO non esistono, se ci fossero altre forme non entreranno in comunicazione, non in questa dimensione, non durante il tempo. È possibile? Come fanno arrivare da noi? Cioè, i problemi che abbiamo noi ci sono anche per loro. Nessuno può uscire di noi dalla Galattia. Perché vi rendete... Se anche se uno per gestione un astronaio che viaggia alla velocità della luce poco andesce, c'è qualcuno che campa 100.000 anni? Quante generazioni ci vogliono? Secondo la cronologia biblica, noi siamo arrivati, la creazione sta intorno a 4.500 anni avanti Cristo. Quindi, secondo la cronologia biblica, degli uomini intelligenti sono passati 6.500 anni. Arriva a 100.000 ce ne vuole, eh? Alla velocità della luce. Quindi, quando stiamo dinanzi all'Altissimo, per questo che si chiama l'Altissimo, cioè, diamoci un attimo una regolata, amici cari, o cosa significa queste tre persone divine? Finito, eh? Questi quattro attributi sono posseduti da tutte e tre le persone in maniera identica. Cioè, il padre è onnipotente? Sì. Il figlio è onnipotente? Sì. Allo stesso modo? Sì. Sì, senza nessun dubbio. Lo Spirito Santo è onnipotente? Sì. Non è che uno è più onnipotente dell'altro. Sono tutti e tre ugualmente onnipotenti. Perché uno è solo onnipotente. Il padre è eterno? Sì. Il figlio è eterno? Sì. Il Spirito Santo è eterno? Sì. Eccetera. Ecco perché nel credo, diciamo, del figlio, Dio da Dio, luce da luce. Sapete qual è l'unica differenza tra le tre persone divine? Intanto per... Andiamo in alta teologia. Il padre è innascibile. Non è né nato, né generato, né procede. Il figlio è generato, non è nato e non procede, generato della stessa sostanza del padre. Lo Spirito Santo non è nato, non è né generato, ma procede dal padre e dal figlio. Unica differenza. Per il resto sono tutti e tre allo stesso livello. Nella Trinità non esiste il prima e il dopo, il più grande e il più piccolo. Questa è la nostra fede divina e cattolica. State attenti che negli antichi simboli di fede, dice, chi non professa questa fede non raggiungerà salvezza. Ecco perché un conto è il rispetto per le altre religioni. Che se un'altra religione ha una sua idea di Dio, il rispetto significa che noi non possiamo violentargli e imporgli un'altra idea. Ma dobbiamo però annunciarla a tutti, perché Dio in Gesù ci ha fatto conoscere come è. Dio è così. Solo la Chiesa Cattolica adora Dio come deve essere adorato, gli dà il culto come gli deve essere dato, perché lo chiama col nome che c'ha, padre, figlio e spirito santo, gli dà l'unico sacrificio che a lui è gradito, che è appunto il santo sacrificio della Santa Messa, cioè le presenti sacramenti e conosce la verità alla perfezione. Capite? Ogni essere umano, questo lo sappiatelo, ha il diritto uno di ascoltarle queste cose e secondo se vuole e lo chiede di essere battezzato. E noi dal canto nostro abbiamo il dovere di mettere tutti in condizione di poterlo ricevere. Ovviamente i ministri e gli apostoli hanno questo conflito a titolo straordinario, perché questo è quello che noi sappiamo. Cioè di Dio in questa vita non possiamo sapere tante cose e rimane comunque un grande mistero, però questo che sappiamo è abbastanza per averci un'idea adeguata di Lui e per rapportarci a Lui come dobbiamo e come Gli è dovuto. Siamo lodati Gesù e Maria. Grazie. Grazie. Grazie.